ho detto che ho pensato a se stesso e alla parte che aveva fatto al giudizio Aldo, quando tu scegli di non continuare con Gemma e ritornare al discorso di una semplice amicizia non coltivabile qua ma al di fuori vuol dire che Gemma non ti piace più? no, non è questione piacere probabilmente mi piacciono tutte le donne del parterre però non vuoi una storia con lei? no, no, penso che anche lei sì, ha avuto del molto, molto, è stata molto più carina nei miei confronti ma ieri Aldo non ha parlato ma non credo che tu voglia andare avanti non erano questi discorsi di Aldo ieri cioè ma tu vuoi andare avanti o no? ma io nel momento in cui l'ho cercato nuovamente è perché avevo intenzione di andare avanti cioè non ieri sera sono rimasta bloccata per la sua freddezza ma davanti a queste situazioni abbiamo parlato parecchio di Isabella non ne avevo? no, è come se avessi pescato nel monopoli la carta torna al punto di partenza io a questo punto torno al punto di partenza e mi metto in gioco ah certo cioè niente Gemma quindi basta con Gemma no, l'amicizia continuerà ah, l'amicizia non c'entra niente basta il corteggiamento perché non me la sento più no, l'amicizia non c'entra niente non c'entra niente non c'entra niente non c'entra niente grazie a tutti